Ogni giorno diverse aziende cinesi ci contattano per proporre il test del loro nuovo smartphone e ogni giorno decine di nuovi telefoni vengono immessi sul mercato quindi noi siamo costretti a fare un'attenta selezione per proporvi solo quelli che reputiamo i prodotti più interessanti tra questi c'è sicuramente Doji Y6 il perché lo si capisce subito è da qui che Apple ha copiato spudoratamente per fare il suo iPhone 7 Jet Black No vabbè dai stavo scherzando chiaramente Doji ha tratti ispirazione dal costosissimo e delicatissimo iPhone 7 Jet Black e vi dirò ha fatto bene innanzitutto il retro sembra plastica ma in realtà è alluminio anodizzato e verniciato di nero lucido sicuramente si riga meno di quello dell'iPhone in confezione comunque troverete anche una cover in silicone il frame comunque è in plastica e facendo un po' di pressione scricchiola in maniera sospetta e anche sul display compaiono degli avvertimenti che significano non esagerare nel complesso però non è male davvero grosso e poco ottimizzato a livello di cornici anche un po' pesante in realtà ma sul lato estetico è ben pensato è bello anche il vetro 2.5D bello anche il fatto che sia tutto nero lucido e di tata parte onestamente non è nemmeno troppo pacchiano venendo al display in effetti devo sottolineare che la distanza tra vetro e pannello non è proprio poca tuttavia non ci si può lamentare della resa cromatica e della retroilluminazione ok rimane un HD da 5 pollici e mezzo con tasti soft touch non retroilluminati ma siamo in piena fascia di prezzo e si può utilizzare con piacere e buona soddisfazione mi tocca però sottolineare il pessimo trattamento oleofobico anzi a dire la verità per me non c'è proprio il fatto comunque di essere in piena fascia di prezzo si applica bene anche al comparto prestazioni il Milatech 6750 che lo spinge è un octa core da 1.5 GHz accompagnato da una GPU Mali T860 e 4 GB di RAM oltre che ben 64 GB di memoria interna espandibile fino a 128 rinunciando però alla seconda micro sim va bene sì non si pianta ed è sempre reattivo il giusto tutto sommato potrete anche togliervi qualche soddisfazione nel gaming e nella navigazione anche approfittando dell'ampio display occhio che la gestione della RAM ogni tanto facilecca per cui il telefono si pianta letteralmente per un paio di secondi meglio non esagerare con le app in background un paio di considerazioni invece sull'uso di tutti i giorni devo farle il sensore d'impronte è tutto 4K reattivo e con tutto intendo comunque preciso ed efficace anche a display spento manca il led di notifica e questo mi è dispiaciuto i tasti soft touch sono un po' atipici multitasking e compressione prolungata e a sinistra c'è il menu l'audio in uscita dall'altoparlante non è molto potente ma comunque fa il suo lavoro la batteria è da 3200 mAh certo che in un de vesti queste dimensioni ci poteva stare anche qualcosa in più ma insomma rispetto all'hardware con cui è equipaggiato è più che dignitosa e infatti ci permette di arrivare a sera tranquillamente con circa 5 ore anche qualcosa in più di schermo acceso per quanto riguarda la connettività invece abbiamo il wifi 802.11 bgn a singola banda c'è il bluetooth 4.0 manca l'nfc e invece c'è la radio fm e anche ovviamente il gps prende bene sì devo dire che non mi ha dato nessun tipo di problema e tra l'altro è equipaggiato anche della banda 20 quella famosa che crea problemi con alcuni operatori per le frequenze dell'LTE fondamentale questa cosa il software è già occidentalizzato con play store e tutti i servizi google che servono questa è abbastanza una rarità e vi mette al riparo dai soliti problemi di ricezione delle notifiche android è in versione 6.0 marshmallow con la classica personalizzazione di media tech e qualcosa in più in particolare ci sono un sacco di gesture per il controllo del movimento e dei segni sul display sono davvero tante e alcune non sono riuscito davvero a capire a cosa possono servire c'è anche la modalità ad una mano e un tool di risparmio energetico ben fatto stranamente ho trovato preinstallate alcune app che si possono normalmente trovare sul play store come parallel space che serve per clonare le app con un account univoco servature software che protegge l'accesso ad alcune applicazioni o ancora la classica app torcia presenti anche i reperti storici di musica file manager registratore messaggi che a questo punto credo che ci porteremo dietro fino a quando esisterà android venendo al comparto fotografico ci sono altre buone parole da spendere la cam principale da 13 megapixel f2.8 mentre quella anteriore da 8 megapixel con tanto di flash led frontale niente male gli scatti di giorno hanno quella punta di intervento software per migliorare nitidezza e contrasto che non fa male e in generale mi paiono abbastanza puliti mentre lasciano un po' desiderare il bilanciamento del bianco e la gestione delle forti luci di notte la qualità scende inevitabilmente ma le immagini rimangono comunque utilizzabili ed è quello che ci si deve aspettare selfie sopra la media sia per la qualità dell'immagine sia per gli assurdi effetti di ritocco che possiamo applicare in post produzione alcuni evidentemente dedicati al pubblico femminile anche il flash frontale comunque fa il suo ma non aspettatevi miracoli video così così anzi così cosa accettabili nulla di più concludendo i tre aspetti che mi hanno convinto di più sono il design le prestazioni e il comparto fotografico quelli che invece non mi hanno convinto tanto sono la qualità costruttiva e poi qualche piccolo dettaglio come il fatto che il trattamento oleofobico sia praticamente inesistente i tasti soft touch non sono retroilluminati lo schermo il vetro protettivo tende a cedere un pochino manca il led di notifica insomma questi piccoli dettagli che però per un prezzo medio di 150 euro anche qualcosa in meno secondo me sono dei compromessi più che accettabili ok non sarà l'iphone 7 jet black però per questa cifra io ci farei un pensierino dopo tutto funziona abbastanza bene e ben rifinito e non vi darà alcun tipo di problema rispetto per esempio ad altri device provenienti dalla cina che hanno sempre qualche magania bene direi che abbiamo detto tutto se avete altre domande siamo a disposizione qua sotto nei commenti e sempre qua sotto in descrizione trovate il link alla recensione scritta con altri dettagli tecnici e i sample fotografici se vi è piaciuto questo video lasciateci un like e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche io sono Matteo vi ringrazio per aver scelto ancora una volta tutto android noi ci vediamo al prossimo video ciao